Ancora sotto ciò? Ancora sotto ciò? Eh, papà Lucio dice solo poche parole, raggiunto al telefono quando gli si chiede come stia Giorgia, la giovane commessa della gioielleria del Vale Center di Marcon, prese in ostaggio dai banditi armati che hanno assaltato il centro commerciale. C'è un filmato di quei lunghissimi istanti di terrore, una manciata di secondi, in cui si vede la ragazza, originaria di Mogliano Veneto, immobile, in piedi di fronte all'ingresso del negozio, tenuta ferma alle spalle da un rapinatore col volto coperto che imbraccia un fucile. Nel video lo scambio di ostaggio, i malviventi vogliono raggiungere l'uscita facendosi scudo con una di loro, la collega Federica si fa avanti, si offre al posto della giovane di Mogliano, i banditi con i sacchi di gioielli scappano in gruppo. Giorgia si porta le mani al petto, rientra nella gioielleria, di lì a poco anche la collega sarà lasciata libera dai banditi che guadagnata l'uscita si danno alla fuga. La ragazza esce dal centro commerciale solo a tarda sera dopo essere stata ascoltata dagli investigatori e ora sta cercando di lasciarsi alle spalle questo incubo. Sta meglio, c'è ora il suo tempo per metterla, perché passi questa tutta esperienza. Lucio Endrizi è conosciuto a Mogliano per la sua attività di tassista. Il desiderio della famiglia ora è quello che Giorgia superi il trauma e torni quella di sempre. Grazie a tutti.